Dall'alba in tutto il Piemonte e in altre località del territorio nazionale, oltre 60 carabinieri del Comando Provinciale di Torino stanno eseguendo un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP di Torino su richiesta dalla Locale Procura della Repubblica, Gruppo Criminalità Organizzata Comune e Sicurezza Urbana, nei confronti di appartenenti ad un gruppo di stranieri provenienti da Pakistan, India e Bangladesh, che avevano organizzato a fini di lucro un traffico di loro connazionali clandestini, anche minorenni. Le indagini dei militari dell'arma hanno documentato fittizia documentazione relativa alla dichiarazione di ospitalità e stati familiari. Tra leggi volatori di pratiche dirette all'ottenimento di permessi di soggiorno, anche un avvocato torinese, destinatario di obbligo di dimora, nei cui confronti si sta procedendo con il PM, titolare del procedimento penale, a perquisizione dell'abitazione dello studio. Grazie. 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 Grazie.